Nel video di oggi trattiamo l'utilizzo di git barra github utilizzando Visual Studio Code quindi in modo diretto Visual Studio Code ha un plugin interno per la gestione delle versioni del versionamento del software che può dialogare direttamente con GitHub e quindi non abbiamo bisogno di intermediari vedremo quindi come creare un progetto, legarlo al nostro Visual Studio Code metterci dentro del software usando Platformio, essendo un software per Arduino ma potete mettere dentro qualsiasi cosa in queste cartelle e poi come gestire i vari commit e proveremo anche a creare un branch per riportarlo poi nel flusso principale se non sei iscritto al mio canale fallo subito, non ti costa nulla e mi dai una mano nel proseguire l'attività di creazione dei contenuti iniziamo subito vediamo come utilizzare git, github con Visual Studio Code utilizzando Visual Studio Code possiamo lavorare direttamente con GitHub senza software intermedi come GitHub Desktop che cosa vi serve? allora dovete, se preferite installare localmente git dovrebbe essere installato su vostro computer perché Visual Studio Code la possa vedere quindi scaricate, installate dovete avere un repository su GitHub quindi su github.com qui vedete il mio repository in cui sono già logato altrimenti andate sul sito, apro una finestra in incognito metto github.com e qua vi registrate e create un account quindi git vi permette di gestire i file sorgenti in modo più furbo di come fanno di solito gli sviluppatori alle prime armi cioè quello di fare delle copie dei file, delle copie delle cartelle chiamandole finale, finale 2, ultimo, ultimissime e così via git è un sistema che utilizza un server il server può essere vostro oppure condiviso se non potete permettervi una macchina che avete o non avete la possibilità di farlo nella vostra rete locale a volte può anche essere superfluo potete usare GitHub GitHub è un server git online disponibile su cui potete creare dei progetti privati o pubblici e condividere il vostro codice oppure gestirlo senza dover fare tutte queste manovre di copie di cartelle eccetera il meccanismo può sembrare un pochino laborioso però una volta che vi siete abituati funziona e vi permette di andare avanti e indietro gestire modifiche, errori e tutto quello che vi può servire vediamo una semplice inferinatura per muovere i primi passi quindi ci sono vari modi di procedere uno è quello di creare un repository su GitHub la creazione di un repository si va sulla sezione repository quindi abbiamo l'overview del mio profilo vado su repository qui aggiungo un nuovo repository faccio new gli diamo un nome facciamo vsc arduino test potete dare la descrizione scegliete se farlo pubblico o privato lo mettiamo privato gli aggiungiamo un redmi potete aggiungere un gitignore che è un file che serve per dire quando caricate il contenuto della vostra cartella locale sul server che cosa escludere mettiamo C++ e si può scegliere anche una licenza andiamo create repository lo vede già perché avevo già fatto qualche prova facciamo test 2 ok a questo punto creiamo il repository quindi repository è un'immagine del progetto che poi creerò localmente localmente non ho ancora fatto nulla ho solo fatto tutto online in questo modo posso da qualsiasi computer collegarmi qui e scaricare il progetto che ora contiene solo un redmi e poche altre cose git è un tool che potete scaricare come vi ho detto prima e potete lavorare a terminale però è un po' scomodo vi permette di avere due step quindi avere un repository locale in cui andate a segnare e marcare tutte le modifiche ai vostri file e a un certo punto quando siete soddisfatti potete caricare tutto online sul vostro repository centralizzato in modo che la cosa sia disponibile anche ad alta utilizzando Visual Studio Code non è complicatissimo allora vado sulla parte di source control facciamo file new windows quindi ho aperto una nuova finestra pulita qua decidiamo di creare un nuovo progetto abbiamo il clone git repository qua quindi lo troviamo anche in questo menu se io apro qua il menu di una nuova finestra di Visual Studio Code posso scegliere se aprire una finestra o clonare un repository facciamo clone repository qui ci chiede qual è il link del repository quindi quale repository andare a replicare lo possiamo ricavare andando qua su zmaker vs.aduino test 2 qui sulla sezione code se apro seleziono https e trovo qua un indirizzo questo è l'indirizzo che noi dobbiamo copiarci cliccando qui e che forniremo a Visual Studio Code quindi nel clone repository vado a incollare qua l'indirizzo del nostro repository quindi clone from url apre l'explorer e mi dice dove vuoi metterlo avevo creato una cartella su desktop qui progetto Arduino git vado qui dentro e lo creeremo qua facciamo select as git repository vuoi aprire il clone repository facciamo open ok quindi ce l'ha aperto diamo ok mi fido dell'autore della cartella aprendo la cartella sul desktop vedete che c'è esattamente il progetto ora qui dentro possiamo creare un file o quello che ci serve per condividerlo andiamo su platformio faccio create new project facciamo un nuovo progetto mettiamo test Arduino selezioniamo la scheda Arduino 1 tolgo la spunta su default location e andiamo a cercare la cartella che abbiamo creato quindi paolo desktop o progetto Arduino ecco qui la cartella ci mettiamo qui dentro qui dentro viene inizializzato e creato il progetto andiamo a vederlo quindi dentro la cartella di github mi crea test Arduino con il codice su cui lavoreremo quindi qua ho il mio codice main e possiamo modificare la forma mettiamo un classico blink togliamo il setup togliamo il loop togliamo queste parti e nel setup facciamo pin mode 13 output mi fermo qua ok salvo il file vedete che compaiono in rosso perché non sono ancora gestiti quindi se io clicco qua sul source control vedi che ci sono questi file non ancora gestiti possiamo mettere un messaggio faccio init e diamo il commit cliccando qui o qui sotto do il commit dice ci sono delle modifiche che non sono ancora in stage diciamo yes quindi le abbiamo committate localmente ora facciamo sync per portarli sul nostro server diamo ok il sync è in corso ok sono state committate a questo punto se io vado online aggiorno vedete che qua vedo il codice che abbiamo aggiunto torniamo su vs code posso andare avanti e fare altre modifiche quindi andare aggiungere delle parti e far evolvere il software ogni volta che aggiungo qualcosa viene registrato digital write 13 mettiamo i punto e virgola salvo vado su source control vedete che dice c'è una modifica qua quindi aggiungiamo pin i la descrizione faccio commit il commit lo fa localmente ok che non è ancora stato portato online qui mi fa vedere la storia abbiamo l'init l'inizio poi abbiamo fatto un commit pin high adesso qui siamo ancora a metà quindi è tutto ancora sul computer non ho ancora trasferito nulla sul mio server se volessi farlo faccio sync a questo punto viene trasferito online e possiamo vederlo anche qua su github il bello è diviso studio code che vi fa il grafico vediamo effettivamente quello che succede andiamo qui aggiorno ed ecco qua che è arrivato il digital write torniamo sul viso studio code a questo punto possiamo provare a creare un branch quindi una deviazione dal percorso immaginate che voglio fare delle prove per vedere se funziona se poi funziona oppure voglio gestire una versione differente che può coesistere le posso fare andare avanti tutte e due in modo differenziato allora intanto vediamo come creare il branch vado qua sui tre puntini ho branch faccio create branch vuole un nome facciamo blink13 lo chiamo così invio quindi viene creato questo branch potete dare un commento facciamo blink completo e faccio publish quindi viene creato e pubblicato il branch ed è anche visibile andiamo qua online aggiorno e qua vedete che ho main e blink13 attualmente sono identiche quindi non c'è differenza posso cambiare da un branch all'altro anche da qui quindi posso scegliere adesso siamo su blink13 posso tornare su main oppure ancora clicco e torno su blink13 facciamo delle modifiche su blink13 siamo su blink13 lo vedo qui sotto completiamo il nostro blink facciamo delay 1000 e poi aggiungiamo tutto il resto anzi lasciamo solo così salvo quindi qui vede che sono state applicate delle modifiche facciamo blink completo con delay do il commit andiamo sì facciamo sync ok ok è stato pubblicato e portato su ora qua possiamo vedere le differenze su il nostro main ho solo il PMO digital write se cambio vado su blink13 ecco qua la modifica anche con il delay a questo punto potrei voler tornare sul quello principale anche qua è immediato cambiare da uno all'altro basta andare qui e scelgo che versione voglio vedere una o l'altra posso switchare e cambiare da una all'altra istantaneamente a questo punto sono soddisfatto delle modifiche voglio riportarle sulla base ora apriamo github andiamo sulla sezione pull request qui vediamo che c'è un commit c'è stata una pubblicazione fatta da blink13 facciamo compare and pull dobbiamo creare una pull request per fare questa unione qui ci dice stiamo riportando blink13 sul base main dice che è possibile fare il merge qui potete mettere delle descrizioni un titolo con scritto quello che è stato fatto clicchiamo viene fatto un test per vedere se la modifica può essere fatta in automatico altrimenti bisogna andare a scegliere come farla in questo caso non ci sono conflitti clicchiamo merge pull confirm merge e abbiamo riportato la modifica fatta su blink13 sul flusso principale quindi blink completo torniamo su code apro qui e abbiamo il main posso aprire il file main.cpp e vediamo quello che abbiamo fatto di là che è stato riportato torniamo qui sul nostro visual studio code scelgo adesso di tornare sul main facciamo sync change diamo ok vengono riportati e abbiamo la modifica quindi il delay aggiunto nel blink13 in questo modo è facile gestire tutte le modifiche sul nostro codice e soprattutto condividerle per oggi è tutto un video che potrebbe essere come la volta precedente abbastanza pericoloso per i contenuti per le inesattezze che potrei aver detto vi ripeto l'utilizzo che faccio io è la sopravvivenza è quello che vi propongo anche a voi quindi iniziate a usarlo capite come muovervi non è complicatissimo ci sono tante varianti poi che entrano in gioco però iniziate a prendere l'esperienza sulla parte principale il vostro progetto mettetelo su github aggiornatelo con i commit in modo da non perdere le variazioni e se vi si rompe il disco del computer il progetto è salvo potete scaricarlo su qualsiasi computer potete condividerlo con gli amici potete far collaborare più persone quindi iniziate a usarli oggi questi sistemi che vi danno una professionalità nello sviluppo vi danno la sicurezza vi danno modo di aver tutto sotto controllo bene per oggi è tutto sicuramente faremo altre cose magari approfondiremo alcuni temi di github vi saluto vi ringrazio ci vediamo presto ciao ciao